Ci sono gli accordi ma mancano i finanziamenti decisivi. A Pesero il recupero dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto di corso 11 settembre, dopo decenni di immobilismo, prova a sbloccare la sua opera di ritorno alla vita, ma anziché annusare l'accelerata sperata arriva un'altra deludente retromarcia. Così il consigliere regionale Andrea Biancani ha definito quel ripensamento della regione Marche che a novembre aveva preventivato di stanziare 10 milioni di fondi dal PNRR per dare il via al recupero. Fondi che secondo il protocollo d'intesa con Comune di Pesero e Asur servirebbero ad un recupero in termini di polo sacciosanitario e di uffici amministrativi di parte della struttura. Recupero che si abbinerebbe ai 15 milioni di euro ottenuti dal Comune di Pesero attraverso il bando Pinqua. E invece l'ultima interrogazione in consiglio regionale di Biancani ha fatto emergere questo blocco dello stanziamento che frena il recupero dei 17 mila quadrati di ex manicomio di proprietà della regione. Ho presentato un'ulteriore interrogazione che è stata discussa appunto nella giornata di ieri e devo dire che la risposta è stata una sorpresa nel senso che l'assessore ha in qualche modo fatto una vera e propria retromarcia rispetto a quanto annunciato pochi mesi fa. Infatti è stato annunciato che i fondi del PNRR a disposizione della regione non saranno utilizzati per la parte di competenza regionale, quindi per il suo recupero appunto della parte regionale. Ovviamente l'assessore ha anche dichiarato che cercherà di nei prossimi mesi, forse anche anni, di prevedere ulteriori risorse. Io penso che questa possa, è un'occasione sicuramente mancata, anche perché il Comune ha l'obiettivo di presentare il progetto esecutivo entro il 2022, deve iniziare i lavori entro il 2023 e sarebbe stata un'occasione unica riuscire a portare avanti due cantieri, se non magari nello stesso momento, ma con una tempistica sfalsata di poco. Così non sarà, perché a tutt'oggi, nonostante le promesse che sono state fatte, prima attraverso la firma del protocollo dove si sono spesi determinati impegni, oggi con la ripartizione dei fondi del PNRR che sono dedicate anche al recupero delle strutture sociosanitarie, mi sarei aspettato tutto, tranne che una vera e propria elettromarcia rispetto a quello che è l'impegno peso poche settimane fa.